Buongiorno da Giuseppe Recca, la notizia di questa mattina, giovedì 20 maggio. In vista dell'arrivo a Palermo previsto per domani mattina, gli organizzatori della marcia per le terme hanno programmato un pullman con destinazione a Palazzo d'Orleà, con partenza da Sciacca domani mattina. Chi fosse interessato a partecipare informano i promotori, chiama il numero 38807-61230. Ieri sera la comitiva saccense guidata dal sindaco Francesca Valenti è arrivata a Corleone dopo una giornata molto pesante dal punto di vista fisico attraverso tanti sentieri dello storico cammino di San Bernardo. Ieri non ci sono state ulteriori polemiche e dopo i fuochi d'artificio con il presidente della regione nello Musumeci che ha etichettato l'iniziativa come speculazione politica, oggi è previsto nella marcia su Palermo il tratto Corleone-Missilmeri. Il centro vaccinale di Sciacca realizzato nella struttura della Casa Albergo per Anziani è pronto. L'Hub funziona già da oggi, è stato realizzato dalla protezione civile e dalla capacità di somministrare 700-800 dosi al giorno. La struttura dispone di aria condizionata, spazi di attesa anche all'aperto e sotto un porticato. Ci sono ampie sale d'attesa per la registrazione e la certificazione. Insomma una struttura ben organizzata per questo tipo di importante attività. Vi è anche un ampio parcheggio. Terminate l'epidemia e l'attività di vaccinazione, l'Hub sarà operativo per lo scopo per cui è stato realizzato, cioè diventerà Casa Albergo per Anziani, cosa che non è mai stato. La struttura già da ieri sera è nel sistema ed è dunque possibile effettuare le prenotazioni per ricevere il vaccino già da oggi. Per un mancato risarcimento il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha commissariato il Comune di Sciacca. Si tratta della complessa vicenda processuale che aveva visto contrapposti i fratelli Francesco e Giuseppe Micalizzi in relazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburante in via Verona. L'amministrazione comunale era stata condannata al risarcimento del danno subito per il mancato rilascio della concessione edilizia, ma dopo la sentenza dello scosto ottobre non ha pagato tale risarcimento. Ora il CGA con un nuovo provvedimento ha nominato un commissario per fare rispettare la sentenza entro i prossimi 90 giorni. La giunta comunale di Sciacca ha autorizzato il sindaco a costituirsi giudizio dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale per la mancata approvazione del rendiconto di gestione. Dopo il rigetto del TAR adesso aspetta al CGA valutare richiesta di sospensiva del decreto. L'udienza di appello dinanzi al Consiglio è fessata per il prossimo 26 maggio. L'amministrazione ha conferito l'incarico all'avvocato Giovanni Immordino di Palermo. I carabinieri di Benfi hanno arrestato un minore del luogo che farebbe parte di un gruppo di giovani che ha aggredito, ferito e rapinato un'anziana. L'episodio si è verificato domenica scorsa. La donna, 77 anni, si accingeva a percorrere a piedi una strada della città. A un certo punto è stata avvicinata da quattro persone che gli hanno scippato la borsa. Ha reagito, ha opposto resistenza e caduta ed è rimasta ferita. Il giovanissimo individuato poco dopo dai carabinieri è stato associato al carcere Malaspina di Palermo. L'anziana ha detto che sarebbero stati in quattro ad avvicinarla. I carabinieri di Castelvetrano hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva dalla sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio a carico di quattro dipendenti del comune di Castelvetrano che lavorano al cimitero. La durata del provvedimento va da due a quattro mesi. L'interdizione si affianca alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui gli stessi erano stati sottoposti il 30 gennaio scorso nell'ambito di una indagine per assenteismo. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata più tardi.